Good morning Milano! Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, come va? Come state? Oggi è martedì 2 aprile, il nostro lunedì è un martedì, sì, nel senso che iniziamo la settimana di martedì, perché ieri è Pasquetta, la Pasqua, come è andata? Come siete stati? Cosa avete fatto? Dove siete andati? Avete preso la grandine? Avete preso la pioggia? Avete preso il sole? Potevate prendere tutto questo a Milano? Ebbene sì, è stato un weekend davvero alternativo dal punto di vista del meteo, di tutto c'è stato, c'è stata un'alternanza, anzi più di alternativo alternanza, alternanza di tutto e noi siamo stati comunque contenti di passare la Pasqua, non lo so, ditecelo voi, raccontatecelo voi, alla 331-78-535-55. Benvenuti a Good morning Milano, puntata di oggi martedì 2 aprile, qui sempre in diretta su Crystal Radio, la radio che vi racconta un po' Milano, Crystal Radio Milano si sente e noi cerchiamo di raccontarvela sempre al meglio, insomma con la giusta energia, quella che vi serve sicuramente oggi, allora a livello di calorie credo che siamo tutti messi bene, nel senso che abbiamo passato un weekend davvero complicato dal punto di vista del cibo immagino, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati vivi dopo il weekend, mi raccomando adesso cerchiamo di avere anche l'energia per ricominciare la nostra settimana lavorativa oppure di studio con la consolazione comunque di avere un giorno in meno questa settimana, dai, quindi dovrebbe pesarci un po' di meno, ci pesa di colomba ma ci pesa meno di giorni, dai va bene, facciamo così? Iniziamo con la musica, allora partiamo, questo è Good morning Milano e questo invece è Dua Lipa con Training Season. Dua Lipa, Training Season, 7 e 16 minuti, Good morning Milano, 331-78-53-555. Diamo anche il buongiorno ad Alberto che ci manda il suo Whatsapp del mattino, buongiorno Fabio, buongiorno Cristallini, durissimo svegliarsi questa mattina, per fortuna è già martedì, è veramente, thanks God, it's Tuesday, oggi così. Tempo brutto in questo weekend pasquale, tra 20 atmosferici pesanti hanno condizionato questi giorni e non è rimasto altro che la tavola e il cibo. Sì, oltretutto ieri a un certo punto veramente c'era, c'era bruttissimo una mattina, un sole che spaccava le pietre nel primissimo pomeriggio qui soprattutto in zona ovest, zona San Siro, tanto da poter starsene tranquillamente in cortile a prendere il sole proprio ed era bello caldo anche, per poi dopo arrivare la grandissima tromba d'acqua con tanto di grandine e tutto quanto e poi dopo adesso sembrerebbe invece a posto, insomma un weekend veramente strapieno di alternanza di maltempo, maltempo che infatti anche sui giornali prende un po' la prima pagina perché dice ad esempio Corriere della Sera Milano maltempo, grandine in Piemonte e Lombardia temporale a Milano, l'allerta è rientrata solo a mezzanotte tromba d'aria nella Varesotto, queste qui sono quelle che sono successi, insomma quello che è successo nel weekend, disagi lungo l'autostrada Milano-Torino, la perturbazione ha interessato diverse province lombarde, a Milano è restata alta l'attenzione fino alla mezzanotte, quindi insomma un weekend complicato, difficile anche con il cambio dell'ora, come ci suggerisce ad esempio Nello che tra Ranfi e l'ora legale il mondo non è poi un posto così bello, grazie Nello al 3317853555 che ci scrive un whatsapp anche lui, è vero perché a un certo punto ci siamo svegliati la mattina di Pasqua, non so quanti di voi se lo ricordavano, con l'ora cambiata, e sì così di colpo, senza accorgercene, a un certo punto ci siamo svegliati e ci siamo accorti che ha cambiata l'ora, e io non mi ricordavo neanche io devo dire la verità, se devo dire la verità non me lo ricordavo neanche io, a un certo punto poi mi sono accorto che era un po' troppo presto, sull'orologio del microonde che non era quello che si era aggiornato, e invece l'altro si era aggiornato, quindi ho detto, ah attenzione c'è qualcosa che non quadra, c'erano due orari che non collimavano, e ho detto, ah ecco perché, ecco che è successo, abbiamo perso un'ora, ebbene sì, quindi se c'è un po' di stanchezza, anche non è dovuta solo all'aumento di zuccheri nel vostro sangue tra colombe e cibi varie, ma anche al fatto che abbiamo dormito un'ora in meno nel weekend per via dell'adattamento all'ora legale, ora legale che davvero da quando abbiamo i cellulari, gli computer, gli smartphone e così, ormai non cambiamo quasi più l'ora, adesso non so voi, ma io in casa non ho un orologio da parete, se non quello del microonde, l'unico che ho dovuto cambiare e aggiornare è stato quello del microonde, gli altri si sono aggiornati tutti da soli, perché anche la radio sveglia, cioè la radio sveglia quella lì è digitale e si aggiorna da sola, quindi quell'altra è una che ci attacchi sull'iPhone, quindi se li metti sull'iPhone si aggiorna da sola e non te ne accorgi, è così, invece mi ricordo quando ero piccinino che andavi in cucina dovevi girare dietro e quell'altro, con l'insala, tutti quelli che avevi da polso dovevi aggiornarli perché non erano digitali, adesso se avete uno smartwatch non aggiornate assolutamente niente, fate così. Chissà invece se è cambiata l'ora legale anche nel traffico milanese, chissà se magari i flussi sono cambiati, ho poca speranza, ma l'unici che possono dircelo sono quelli di luce verde. Maroon 5 gone cold alle 7.24 minuti, quando stiamo per concludere la prima parte della trasmissione e raccontarvi un po' però ancora della Pasqua, poi dopo cambiamo magari discorso alla seconda parte, ma perché mi ha colpito un articolo della Repubblica che dice, con la colomba di Pasqua avanzata, cosa si fa? Polpette, risotti e french toast, ecco le ricette antispreco più originali. Pasqua da record per le colombe vendute in città, pensate che da Longoni, il giorno prima di Pasqua, venerdì già, venerdì aveva piazzate oltre 1.300, pensate. Numeri da record invece per Bollani, 6 negozi in città, 15.000 colombe vendute, tra quelle di 300 grammi fino a quelle a 3 chili, ma non sono da meno anche Manzoni che in Corso San Contardo ne ha vendute oltre 600, Ticozzi che in Via Medeo ne ha vendute più di 300 e poi 1.100 da Calogero, scusate, da Callegaro in piazza Oberdan. Questi numeri delle colombe vendute, quindi cosa fare con quello che avanza? Allora c'è chi le suggerisce di pucciare nel latte e si fa prima, magari dopo un po' stufa, e allora si possono fare ad esempio le polpette, sì perché ad esempio Giovanni Nerini, chef romano che appunto ha in Via Tortona, ha aperto un ristorante che si chiama Polpetta, dice tutto è polpettabile, quindi polpette di colomba all'arancia, pensate, prenderà la colomba, c'è la ricetta anche sulla Repubblica, ma volendo si può fare anche il French Toast, ebbene sì, con la mortadella dentro, pensate che roba, c'è di tutto si può fare con la colomba. Poi qui risalto cosa dice? Consiglia di tostarla invece, fare delle bruschette con un velo di burro e salmone, oppure con la salsa tonnata ai capperi, questo è quello che suggerisce ad esempio Davide Stroppolo di Pisco, ad esempio, vedete? Cioè c'è veramente di tutti, questo qui cosa dice invece? Vediamo, il primo è Federico Trobbiani, chef del ristorante Locatelli, dice che si può fare anche un dessert di nuovo, cioè si può rendere di nuovo un giambondolce invece di metterci cose, quindi servono un chilo di colomba, una mela, 400 ml di latte, due uova, un cucchiaio di cacao, 20 grammi di zucchero e 200 grammi di cioccolato fondente. Piccolo problema, Trobbiani, se mi avanza un chilo di colomba c'è un problema, cioè un chilo di colomba da colomba intera la regalo a qualcuno che la magna, il problema è quando la colomba è aperta, cioè finché è chiusa, adesso non è, è vero che quegli altri fanno una colomba da tre chili, però insomma se mi avanza un chilo di colomba, va bene, me la mangio come colomba, posso andare avanti, scadrà ben oltre l'estate credo, quindi insomma posso mangiarmela tranquillamente a colazione per le prossime settimane. Va bene, un bel servizio di quelli articoli belli, quelli inutili che piacciono a noi, che possiamo però leggerci, no, ci sono dentro delle, non è vero dai, ci sono delle idee che potrebbero essere interessanti, sì, vediamo, cioè se avete qualche avanzo in realtà io sono solo per la polpetta, tutto è polpettabile in questo mondo, ah, si può polpettare qualsiasi, qualsiasi cosa, piccola pausa, due consigli per acquisti e poi torniamo qua in diretta su Crystal Radio con Good Morning Milano, prima non prima non prima non prima di sentire chi Vasco Rossi con Stupendo. Heartwind and Fire con September, anche se siamo ad April, ma è sempre bello sentirli perché, beh, c'è poco da fare. Comunque, martedì 2 aprile, weekend di Pasqua che avete passato, da quanto ho capito, tutti quanti molto bene, nonostante il tempo, nonostante il mal tempo soprattutto, che però insomma ci ha graziato in qualche secondo, ma in altri invece ci ha punito, insomma, grandinata pazzesca, ho visto gente correre a ripararsi, a sdraiarsi sopra le macchine per attutire il colpo della grandine, insomma, di tutto e di più. Grazie anche a Fabrizio D'Opera che ci scrive al 3317853555 e scrive buongiorno Fabio e a tutti i cristallini, mi auguro che tutti quanti abbiate passato una Pasqua serena, la mia è stata rock dopo il sabato sera al Forum. Buona settimana a tutti, perché? Cos'è successo sabato sera al Forum? Perché c'era il concerto dei Depeche Mode, ebbene sì, e quindi anzi, ci abbiamo dato anche un bel video di un minuto e passa da vederci una di quelle canzoni, di ascoltarci e vederci l'interpretazione di una di quelle canzoni mitiche dei Depeche Mode, che allora chi sono io per privarvi di questo ascolto, miei carissimi milanesi, bene sì, allora ci ascoltiamo i Depeche Mode questa mattina alle 7.40 qui su Crystal Radio con dei pezzi storici di questa band, in realtà ne hanno così tanti che è davvero difficile trovare un pezzo iconico, cioè sono tutti pezzi iconici, trovarne uno che dica ok sono i Depeche Mode, no ce ne sono così tanti che è davvero complicato, uno di queste sicuramente è Just Can't Get Enough. E allora alle 7.40 i Depeche Mode qui a Crystal Radio. Depeche Mode, Just Can't Get Enough, 7.43 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano, in diretta qui per oggi martedì 2 aprile, vi ho detto appunto un weekend impegnativo per molti, insomma bisogna anche rimettersi in forma, molti di voi corrono ad esempio rimettersi in forma e si dice che correre faccia bene, io non lo so se fa bene correre, so che fare a Milano Marathon però questo weekend potrà fare bene, perché vi dico questo perché c'è tutto un progetto da Milano Marathon che ha a che fare appunto con il Charity Program e proprio per parlare un po' di alcuni di questi progetti che si possono aiutare correndo per la Milano Marathon abbiamo in collegamento Giuseppe Cupertino, buongiorno Giuseppe, benvenuto a Good Morning Milano. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Giuseppe lei appunto fa parte del gruppo degli avventisti d'Italia, mi dice bene come si chiama perfettamente perché non vorrei sbagliare la dicitura come si dice in questi casi e sta di fatto che voi avventisti promuovete dei progetti e grazie proprio alla partecipazione a Milano Marathon si possono raccogliere fondi appunto per questi progetti, mi spieghi meglio lei però che io poi ho paura di sbagliare. Sì, noi siamo la chiesa avventista del settimo giorno e noi partecipiamo alla Milano Marathon con 24 squadre, cioè praticamente 100 runner, 100 corridori che hanno deciso uno di farsi del bene muovendosi perché la Milano Marathon, la charity program è una staffetta quindi le squadre sono composte da 4 persone che fanno una tratta della maratona e quindi per farlo poi uno si mantiene in forma e fa dell'attività fisica preparatoria e due anche per fare del bene agli altri e noi abbiamo, ci sono già 3 anni che partecipiamo a questo evento raccogliendo fondi per progetti specifici, quest'anno il progetto per il quale stiamo raccogliendo fondi è il progetto, sono due progetti ideati da due ragazzi nell'ambito di un concorso di idee che abbiamo organizzato a novembre scorso e due progetti si sono diciamo meritati lo sforzo di essere finanziati e sono i progetti Stammi Vicino e una base per stare bene, che cosa sono? Sono uno un progetto per la creazione di un'app che possa assistere i caregiver, cioè coloro che seguono, aiutano i familiari di chi ha dei disturbi del comportamento alimentare, quindi problemi legati all'anoressia, alla bulimia e l'altro è invece una base per stare bene ideato da un gruppo di ragazzi, sono tutti adolescenti quelli che hanno partecipato a questo hackathon, a questo modo di progettare comune, sono questi adolescenti che hanno pensato di creare dei momenti tipo gita scolastica, diciamo così, però un po' particolari nelle quali incontrarsi con le classi, gli insegnanti e anche eventualmente dei genitori per parlare di benessere, elaborare progetti sani come attività fisica nella natura, conoscere, conoscersi meglio anche reciprocamente, quindi dei momenti di lavoro di gruppo con gli adulti e gli adolescenti. Questi sono i due progetti per i quali stiamo correndo, raccogliendo fondi. La cosa interessante, Giuseppe, è che sono entrambi dei progetti che partono da dei ragazzi giovani, no? Giusto? Esattamente. Voi avete fatto quello che lei ha definito hackathon, giusto? L'hackathon, diciamo, speriamo un po', è quella cosa che, cioè voi dite, ci sono dei problemi, la dico male, ci sono dei problemi nel mondo, vediamo un po' voi, menti giovani, che cosa mi date come soluzione a questa cosa qui, quindi una tempesta di cervelli, vera, vera e propria, esattamente, esattamente, è proprio così, hackathon è una parola coniata mettendo insieme maratona e hacker, hacker, hackeraggio, praticamente l'hackathon abbiamo messo insieme 50 adolescenti tra i 16 e i 21 anni che si sono riuniti per un weekend a novembre e gli abbiamo detto questi sono i problemi che esistono relativamente a tematiche di salute, di fatti l'hackathon si chiamava hack4, hack4 con il 4, se cercate su internet trovate anche quello e in sostanza questi 50 ragazzi si sono divisi in 7 squadre e hanno lavorato su diverse tematiche per progettare e alla fine noi abbiamo deciso di premiare due progetti, due sono risultati vincitori ex equo e poi un terzo ha avuto una segnalazione e noi abbiamo deciso di finanziare questi progetti con l'otto per mille della chiesa ventista e anche raccogliendo fondi tramite la Milano Marathon. Ecco, sono progetti molto interessanti, voi poi insomma avete una lunga tradizione di progetti vari e variegati, giusto? Sì, precisamente, noi lavoriamo in particolare con l'otto per mille della chiesa ventista che come sappiamo è quella quota delle nostre imposte sul reddito che viene devoluta attraverso le firme che uno appone sulla propria dichiarazione ogni anno, attraverso questa quota che viene devoluta le comunità religiose dalla chiesa ventista e come anche altre comunità che hanno l'intesa o che hanno il concordato, beneficiano di questo gettito e noi lo devolviamo interamente per progetti sociali, umanitari, culturali, quindi assistenza agli anziani. Sulla zona di Milano per esempio abbiamo un impegno per la distribuzione alimentare, per le famiglie che sono in difficoltà, quindi finanziamo questo tipo di attività, finanziamo tutta una serie di attività per i ragazzi, per le attività scautistiche, quindi abbiamo dieci sedi dove c'è un'attività a favore dei ragazzi preadolescenti e adolescenti e poi lavoriamo anche per l'integrazione, per sostenere anche le persone che magari fanno fatica a inserirsi socialmente e quindi creiamo dei momenti di scambio culturale per anche trovare il modo di essere accompagnati nel loro percorso di vita. Questo nella zona di Milano, poi a livello nazionale seguiamo anche altri progetti, in particolare per esempio l'educazione all'accettazione di situazioni legate alla disabilità, per esempio noi abbiamo un percorso che si chiama marciapiede didattico con il quale andiamo nelle scuole per far vedere ai ragazzi che cosa significa rispettare le regole relative alla protezione dei percorsi per la disabilità, quindi facciamo provare un ragazzo con la carrozzina sui marciapiedi dove ci sono le macchine parcheggiate, le biciclette oppure dove manca lo slitto per scendere dal marciapiede per far capire tutte queste problematiche e far capire che cosa significa anche avere questo tipo di limitazioni nel movimento. E' proprio questo Giuseppe, è proprio questo che dicevo, sono davvero tantissimi i vostri progetti, sono veramente tanti, di tutti i generi, so che c'è, ho anche collaborato anche in progetti per contrastare la ludopatia, il gioco d'azzardo, insomma so che ci sono davvero tantissimi progetti. Anche quello, sì sì esattamente, per contrastare la ludopatia, il gioco d'azzardo e anche per contrastare l'usura tramite la fondazione Adventum, che è un'attività che ha un peso rilevante nelle famiglie italiane e anche su questo abbiamo diversi progetti. Se gli ascoltatori vogliono approfondire possono andare sul sito, tutto in lettere, 8permilleaventisti.it e lì trovano tutta una serie di progetti. Ci occupiamo anche molto di salute attraverso una rivista online e offline che si chiama Vita e Salute e quindi questo la portiamo avanti da anni, ci sono anche dei corsi, podcast che uno può scaricare e anche relativamente alla ludopatia. Ci sono diversi podcast proprio per aiutare a capire il fenomeno e anche a combatterlo. Ecco, prima di chiudere invece, torniamo appunto alla Milano City Marathon. Cosa si può fare per dare una mano a questi due progetti invece che porterete appunto alla Milano City Marathon? Allora, se chi desidera aiutarci nella raccolta fondi può andare sul sistema di raccolta legato alla Marathon, la Marathon, la Charity Marathon. Il sito di raccolta è Rete del Dono, esattamente, e poi lì fare la ricerca Chiesa Adventista, Chiesa Adventista con la W e se fa questa ricerca diciamo lì nello spazio riservato trova poi i vari progetti che abbiamo finanziato negli anni precedenti e anche quello di quest'anno che si chiama Ec for Health. È una parola inglese, non so se tutti riescono a... Sì, ce la facciamo, ce la facciamo, ci proviamo almeno. Giuseppe, la cosa che mi colpisce molto dei vostri progetti, perché la chiesa Adventista, quindi ovviamente c'è una chiesa a punto di mezzo, non mi ha parlato di mezza cosa religiosa però, cioè tutti i vostri progetti hanno a che fare con tutt'altro, cioè proprio è un impegno sul sociale, sulla vita di tutti i giorni sembra, no giusto? Com'è questa cosa? Sì, sì, allora perché da un lato noi spendiamo le risorse, stiamo parlando di risorse 8 per 1000 che sono le risorse dei cittadini che noi percepiamo e noi riteniamo che non debbano essere spese per il culto ma debbano essere spese a favore del bene della società e della collettività e questo è il primo motivo. Il secondo è anche che noi crediamo che l'essere religiosi significhi impegnarsi per fare del bene e fare del bene agli altri e questo è anche un atto religioso, non per forza legato a un contenuto dottrinale ma semplicemente perché il Vangelo ci dice che datevi sarà dato, facciamo del bene, ama il prossimo tuo come te stesso e quello che desideriamo per noi stessi è sempre il bene in generale. Allora grazie per tutto quello che fate, grazie davvero perché sono tantissimi i progetti che fate, mi raccomando fatevi un giro sul sito della Chiesa Ventista perché davvero c'è tanto e si capisce veramente questo impegno di cui parlava poco fa Giuseppe. Io ringrazio tantissimo allora, buona corsa va bene, mi raccomando. Grazie, io sarò a Milano per partecipare alla corsa, è il terzo anno che lo faccio ed è sempre un evento molto stimolante. Eh sì, ricordiamo quindi domenica 7 aprile appunto la Milano City Marathon e date una mano appunto a questi bellissimi progetti che si possono aiutare appunto su Rete del Dono, cercateli e li troverete. Grazie mille allora. Grazie mille a voi, buona giornata. Grazie mille, grazie mille a Giuseppe Cupertino, andate appunto come dicevo fatevi un giro sul sito perché trovate veramente tutte le informazioni possibili e immaginabili e potete trovare appunto tutto quello che può essere utile anche per capire meglio questo mondo. Poi appunto Milano City Marathon domenica potete dare una mano, aiutare e entrare anche voi in questo grandissimo mondo con rettedeldono.it. Adesso ci fermiamo per qualche secondo, andiamo in pubblicità, poi giornale radio e poi torniamo qua. Come sempre qui su Cristal Radio con Good Morning Milano. 7 e 56 minuti, martedì 2 aprile. Avanti così. Lorella Cuccarini con La Notte Vola, il Cristal History delle ore 8 e oggi grande musica, non lo dico io, lo dicono invece i nostri ascoltatori, lo dice Nello al 3317853555 scrive musica vera su Cristal, è questo che vogliamo sentire. Chissà se parlava dei Pink Floyd di prima o della Cuccarini adesso, chissà glielo chiederemo. Credo parlassi dei Pink Floyd, infatti io voglio ringraziare l'ufficio programmazione di Cristal Radio per le scelte musicali che fanno, che insomma ha sempre buona musica che la mattina vi dà energia e oggi ne abbiamo bisogno veramente tanta perché appunto è questo martedì che sa di lunedì, è vero, un giorno in meno questa settimana, ma sarà sempre, è comunque difficile dopo il weekend che abbiamo passato e allora lo sapete, dopo di noi va in onda StintiQuesta con Ambrogio Curti che il lunedì di solito ci dice un po' qual è il sommario della settimana. Ovviamente oggi essendo martedì ha voluto invece darci un contributo apposto fatto per noi, per noi di Good Morning Milano e allora io non vedo l'ora di ascoltare dalla bravissima e competentissima voce di Ambrogio Curti quello che ha da raccontarci. E allora Ambrogio dici un po', dici un po', anzi com'è che dici tu? Sentiamo questa, dai, senti questa Ambrogio. E grazie mille, grazie mille Ambrogio Curti con SentiQuesta alle 9.05 dopo il giornale radio qui su Crystal Radio, grazie mille davvero della tua competenza e di tutti gli aneddoti che ci hai detto su un 2 aprile, veramente, veramente pieno di ricorrenze il 2 aprile. Ricordiamo altre ricorrenze allora legate al 2 aprile, pensate che nel 1968 esce nelle sale 2001 Odissia dallo Spazio, 2001, pensando a quel 2001 come un anno nel futuro con navicelle con cose che giravano. Ormai abbiamo superato da quasi 25 anni che abbiamo superato il 2001, quasi un quarto di secolo dopo e nulla di tutto ciò, pensate, quindi vabbè, pensate il grande genio di Stanley Kubrick. Poi cos'altro è successo il 2 aprile? Beh, non si può non ricordare che invece nel 2005 ci lasciava oggi Papa Giovanni Paolo II, 19 anni fa ormai, veramente sembra ieri, invece sono 19 anni, 19 anni fa, 2 papi fa, nel senso pensate, 19 anni 2 papi oltre appunto a Giovanni Paolo II che ci lasciava il 2 aprile del 2005. Ricordiamo poi che il 27 aprile invece nel 2014 è stato proclamato santo della Chiesa Cattolica insieme a Giovanni XXIII. Queste ricorrenze appunto che si hanno nel 2 aprile che mi ha sentito anche essere una giornata invece molto importante per la musica con tutte le ricorrenze che ci ha detto prima Ambrogio Curti. Tra i nati oggi ce n'è uno molto legato alla mia infanzia che è Gelindo Bordin, non so se ve lo ricordate, Maratoneta, Seul 88, Olimpiadi, è una roba che è proprio uno di quei, sapete quelle immagini che ti rimangono nella testa perché passavi davanti al televisore in quel momento, eri all'altezza del televisore, se vi ricordate quei televisori di una volta giganteschi, tubo catodico, ok? Tu bambino praticamente eri all'altezza del televisore quindi ce l'avevi in faccia e tu hai visto Gelindo Bordin fare quella grande impresa appunto durante le Olimpiadi e quindi è rimasto un po', quando io penso a Maratoneta mi viene in mente lui, uno dei più grandi maratoneti che abbiamo avuto in Italia e quindi insomma ci sono quei ricordi, un altro ricordo che ho, adesso non c'entra niente, ma voglio capire con voi anzi 3317853555, ditemi che ricordo avete legato a un aneddoto non storico perché sapete il muro di Berlino, va bene, le Torri Gemelle, ci sta, è ovvio, quelle robe lì tutti se le ricordano, tutti sappiamo se andiamo indietro nel tempo, non so, al Domoro, tutti sanno doveri in quell'istante in cui successe quella cosa lì, ma ad esempio ho un ricordo legato alla mia infanzia che era la partita di Coppa dei Campioni tra Milan e Olympique Barsiglia quando si spensero le luci allo stadio, ok? Una cosa banalissima, una cosa di una banalità pazzesca che però era così straordinaria nella normalità di una partita che doveva durare 90 minuti, doveva fare il suo percorso, chi mai, un bambino di 12 anni va a pensare alle luci dello stadio? No, non ci pensa, esistono, fanno parte dello stadio anzi. Beh, io per anni, per anni insomma, nei mesi a seguire, quando giocavo magari spesso mentire ritiravo fuori questa situazione qua, no? Cioè andavo a ricreare magari, non so, col Subuteo o con il Lego o col Playmobil l'idea del... ma a un certo punto salta la luce, capito? Ecco, sono quegli avvenimenti che ti colpiscono. Quali altri avvenimenti ci sono nella vostra vita che magari vi hanno colpito, che appunto non sono avvenimenti storici, ma sono cose che vi hanno un po' colpito, vi hanno magari influenzato quando erate bambini nel giocare, nel raccontare quello che facevate? 3317853555. Andiamo avanti con la musica, adesso sono i Don't Out, no doubt, scusate, con Don't Speak. Don't Speak, che insomma non è male per uno che fa lo speaker, però comunque, no doubt, con Don't Speak, 1995. Anche questo, ad esempio, è un ricordo legato alla mia adolescenza. Questa qui era una delle canzoni che avevo nel Walkman mentre andavo in motorino a scuola. Sì, lo so, non si dovrebbe ascoltare il Walkman in motorino, lo facevo. È andato in prescrizione nel reato, spero di sì. Comunque, 3317853555, Whatsapp di Erika che ci dice Buongiorno, oggi musica bomba. Beh, sono contento, allora dai, sono contento. Ragazzi, appunto, ve lo dico, rigiro i complimenti all'ufficio di programmazione di Crystal Radio che, insomma, si staranno dando un po' di pacche sulla spalla in questo momento. Bravi complimenti. Un'altra pacca ve lo do anch'io, bravissimi. Siete, siete veramente bravi. Se, invece, siete in carenza di zuccheri, nonostante questo weekend, attenzione perché sta per arrivare a Milano una nuova gelateria. Oh, siete contenti? Ne mancava una, giusto? Perché ve lo racconto? Perché l'11 aprile, in occasione appunto del Salone del Mobile, verrà presentata questa gelateria che si chiamerà LEC. LEC, che non è LEC, Lugelat, quelle cose lì, no, non c'entra niente, no. L, E, C, LEC. Magari chi di voi segue lo sport gli dice qualcosa a queste tre lettere. L, E, C, LEC. Dai, vi lascio due secondi per pensarci. Un secondo per pensarci. Charles Leclerc. Eh sì, è la sigla, è la sigla di Leclerc, no? Quello che corre per la Ferrari, quello lì. Eh sì, quando tutti i piloti hanno una sigla di tre cifre, diciamo, di tre lettere, la sua è LEC. Perché vi racconto questa cosa? Perché è legata a una gelateria? Perché Leclerc, insieme al fondatore di Grom e al figlio di Jean Todd, ex capo della Ferrari, non chiede su lui, il figlio e anche il manager di Leclerc, apriranno una gelateria a Milano, appunto. La collaborazione con Nicolas Todd, figlio di Jean Todd, e Grom. Gelateria che si chiamerà LEC. Non si sa ancora tantissimo su questo progetto, o meglio, non si sa praticamente nulla, se non che sarà appunto gestita, no, gestita no, perché non penso che sia lì a metta sulle palline, nel senso che il proprietario sarà Leclerc, gira tutto intorno al marchio Lec, appunto, e sarà presentata durante il salone del mobile. Questo io pensavo fosse un pesce d'aprile, ve lo giuro, perché pensavo fosse un pesce d'aprile, e invece ho visto che la notizia è riportata su alcuni giornali, già anche prima, comunque, della giornata di ieri, quindi non dovremmo avere sorprese strane su questa notizia. Però, comunque, vi ripeto, l'11 aprile ascolteremo che cosa hanno da dirci Leclerc e compagnia bella. È arrivato al 3317853555 un altro WhatsApp, che ci dice un po' cosa ha nella mente. Ad esempio, Ambrogio ci dice, ho ancora impresso nella mente l'annuncio il venerdì sera sulla TV svizzera italiana, pensate, della serie UFO, Shadow, Minaccia dallo Spazio, primi anni 70. Ecco, vedete, sono quelle cose che non è che... cioè, il mondo è andato avanti comunque prima e dopo di questo annuncio, ma il piccolo Ambrogio, in quel caso, vedete, rimaneva così, a guardare a bocca aperta, molto probabilmente, in quell'istante, la televisione. Beh, insomma, è questo, sono la grandezza dei nostri ricordi, ricordi e un po' quello che ci poi ci... ma sono quelle cose che ti porti avanti comunque, appunto, nella tua vita per sempre, nonostante sia successo questa cosa, ad esempio, nei primi anni, anni 70. 3317853555, qual è il vostro ricordo impresso nella mente che ancora fate, cioè non riuscite a togliervi dalla mente? Intanto su Leclerc qualcuno ci scrive, gelaterie che proverò appena attorno a Milano. Lec, dove? Grazie. Questo è il messaggio di Katia, dove? Non lo sappiamo ancora, lo scopriremo l'11 aprile, poi vi diremo dove andare a fare Lec. Va bene, Lec l'ho gelato. Secondo me dovremmo chiamarla così. Andiamo con gli Abba, invece, che è roba seria questa. Umberto Tozzi con Gloria, anzi, in questo caso potremmo dire Gloria nell'alto dei cieli, perché? Perché è Crystal Radio, che va nell'ettere, capito? Pensate voi che giro nella mia testa. Ebbene sì, Crystal Radio FM 96.2, DAB+, ma anche sui bit, i byte, i kilobyte, i gigabyte dei vostri cellulari e smartphone oppure sul vostro computer con crystalradio.it. Torniamo a parlare di ricordi che avete appunto indelebili nella vostra mente e ovviamente arrivano anche poi gli eventi, quelli proprio più storici e che hanno cambiato poi anche il mondo. Tra cui, ad esempio, ci dice Katia, appunto Katia ci scrive nella mente, nella mente ho la morte di Ayrton Senna mentre rientravo a casa dal primo maggio con la famiglia. Avevo 13 anni, vedessi, me lo ricordo benissimo, primo maggio 1994, traumi giovanili, dice appunto Katia. E beh sì, è quello. Ho pianto tantissimo. Beh, chi quel giorno non è rimasto sconvolto da quel weekend? Io lo devo sempre ricordare perché tutti si ricordano appunto la morte di Ayrton Senna del primo maggio. Molti si dimenticano la morte il venerdì invece del pilota tedesco Ratzenberger che guidava sulla MTV, si chiamava la Simca, non ricordo male, era una Simca sponsorizzata MTV che fu, diciamo, il primo morto da tantissimi anni nella Formula 1. Erano decenni che non c'era più un decesso in Formula 1. Avvenne così in diretta, televisiva, tutti lo videro durante le prove. Un weekend davvero tremendo, quello di Imola del primo maggio del 94, poi l'incidente di Ayrton Senna, poi due meccanici che finirono in ospedale molto gravi, colpiti da una gomma che si staccò dalla macchina, credo, non era una Ferrari, comunque una macchina italiana che usciva dai box, perso una ruota e colpì due meccanici, insomma, un weekend davvero tragico quello del primo maggio del 94 che ovviamente ha segnato molti di noi giovani ragazzini. Negli anni poi, ovviamente, ci scrive poi Kate, negli anni un altro ricordo indelebile scrive semplicemente SIC con un cuore e va bene, e basta, e sappiamo benissimo di cosa parliamo. 3317853555 questi sono i ricordi della storia, quelli che sono indelebili, ripeto, lo dicevo prima, anche la caduta del muro di Berlino, l'11 settembre e quelli invece più legati magari alla vostra gioventù ma proprio in intimità quasi nel senso che c'eravate lì cose che magari hanno colpito solo voi io vi ricordo prima parlavo ad esempio dei lampioni spenti durante la partita di Milan-Barsiglia un altro ricordo pensate, non mi ricordo che un gran premio fosse però parlando sempre di motori Nigel Mansell vince un gran premio estenuante e faticosissimo tant'è che sale sul podio così stanco che prendendo in mano la coppa gli cade la coppa addosso lui quasi sviene e si taglia una mano ecco ad esempio questo è un ricordo che rimase indelebile nella mia testa di bambino che seguiva la Formula 1 per tantissimi anni chissà perché ci sono queste cose che ti colpiscono così forse perché escono un po' dal seminato escono dall'abituale tutti abituato a vedere quello che sale va sul palco cioè sul podio apre la bottiglia di champagne bagna tutti con lo champagne alza la coppa il nazionale tutti a casa e invece lì c'è stato qualcos'altro oppure la volta che appunto anzi Ayrton Senna rimase a piedi durante un gran premio e fece l'autostop e salì seduto su una macchina una monoposto che diventò biposto in quel caso e fu riportato ai box da un altro pilota insomma ci sono in questo caso parliamo di Formula 1 perché appunto Katia ci ha riportato alla mente Senna però insomma ci sono tanti momenti spesso legati agli osport o ad alcune trasmissioni televisive come diceva prima Ambrogio ad esempio a delle sigle a degli annunci c'era l'annuncio di UFO Shadow minaccia dallo spazio fatto sulla tv svizzera ad esempio diceva che lo lasciava veramente a bocca aperta chissà come mai rimangono così indelebili nella nostra testa e poi io ripeto molto probabilmente quando poi giocavamo da bambini riproponevamo quelle situazioni nei nostri giochi quotidiani così perché ci avevano colpito ed erano rimasti così indelebili nella nostra piccola mente di giovani e giovanissime che insomma si rimane più magari così impressionabili da certe cose Caparezza con la scelta 8 e 49 minuti Cristiano Radio Good Morning Milano attenzione che da domani la M4 chiude per 7 giorni consecutivi ebbene sì lo stop per i test necessari all'apertura completa invece della linea che avverrà nei mesi prossimi metroferma e operai al lavoro da domani mercoledì 3 aprile sto leggendo da Milano Today la metropolitana blu di Milano la nuova M4 sarà chiusa al pubblico per permettere ai tecnici di effettuare tutte le prove necessarie in vista del completamento della linea appunto quindi la linea blu sarà chiusa il 3 4 5 6 7 8 e 9 aprile giocateli sulla ruota di Milano e sarà sostituita dagli autobus al momento ricordiamo che ci sono solo 8 linee se non ricordo male aperte si 8 linee aperte e si passerà da 8 linee e 13 treni a 21 scusa 8 8 linee scusate 8 fermate 8 fermate e 13 treni al momento dopo quando appunto arriverà l'apertura finale in teoria intorno a giugno dovrebbe arrivare tutto 21 fermate e 47 treni in totale niente male niente male al momento sono aperte solo le 8 stazioni di San Babila Tricolore Dateo Susa Argonne Forlanini Repetti e Linate a breve per completare le 21 fermate toccherà e qui c'è un errore ve lo dico già Milano Today l'avete scritta un po' sbagliata perché dice dopo questi collaudi si passerà a completare con le altre 21 fermate e quindi toccherà a Sforza Policlinico dove è previsto l'interscambio con M3 l'interscambio fuori quindi sotto non c'è l'interscambio se tu esci cammini per strada e vai emissori quindi non è che è proprio un'interscambio poi ci sarà Vetra De Amicis e anche qui ancora dice Sant'Ambrogio con incrocio con la M3 però no non c'è l'incrocio della M3 non è così che funziona quindi non so perché hanno fatto un po' di errori su questo comunque poi ci sarà con Izzugna California Bolivar Tolstoi Frattini Gelsomini Segneri e infine San Cristoforo ricordiamo che non arriverà a Bucinasco nonostante le tante tante richieste del sindaco della giunta dei cittadini che si sono visti mettere sul si sono visti mettere sul la fermata deposito e quindi non si sono visti invece arrivare la fermata gli autobus che metteranno invece in campo sulla M4 la sostituzione sarà fatta da degli autobus appunto che passeranno ogni 3-4 minuti la mattina ogni 6-7 minuti la mattina dopo le 9 e mezza fino alle 19.30 e dopo le 19.30 ogni 15 minuti invece quindi insomma armatevi di pazienza se dovete fare quella roba lì posso dirvi fatevi un altro giro che forse è più comodo sarebbe un po' più semplice quindi ricapitolando 7 giorni consecutivi di chiusura per la M4 a Milano 8 e 56 minuti di oggi martedì 2 aprile volge al termine questa puntata di Good Morning Milano grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e che ci avete fatto compagnia questa mattina in tante appunto avete scritto anche al 331 7853 555 per condividere i vostri ricordi i vostri pensieri e anche la musica che vi piace che questa mattina avete ascoltato qui su Crystal Radio l'avete sentito anche prima che ci ha raccontato un po' di questo 2 aprile musicale sto parlando di Ambrogio Curti che arriverà dopo di noi dopo il giornale radio Ambrogio Curti con senti questa e invece voi se volete sentire ancora questa trasmissione dovete tornare qui domani alle ore 7 come sempre in diretta qui su Crystal Radio e Fabio Ranfi vi saluta codiovato dalla produzione di Elisa e dalla regia di Maria grazie a tutti quanti per aver collaborato con noi e grazie a tutti voi per averci ascoltato noi ci ascoltiamo domani mattina alle 7 qui con Good Morning Milano ahhh ahhh ahhh